A novembre si andrà al voto sul referendum costituzionale. I cittadini hanno preoccupazioni più immediate e concrete, il lavoro, un reddito insufficiente per vivere dignitosamente, andare in pensione. Ma sicuramente sanno che avere istituzioni più snelle e funzionale è utile a tutti, è utile al Paese. L'eliminazione del bicameralismo perfetto, e cioè una Camera sola che vota la fiducia, va nella direzione giusta. Un processo legislativo più veloce e maggiore stabilità di governo aiutano il Paese e quindi il mondo del lavoro. Ritengo positiva anche la scelta di far tornare allo Stato alcune materie come l'energia, le infrastrutture strategiche, la protezione civile. Troppe volte interessi particolari hanno bloccato opere di interesse strategico per tutto il Paese. Da sindacalista della CGL con il governo Renzi ho più di un motivo per polemizzare, ma non su questa riforma che considero utile e necessaria. Io non faccio parte di alcun comitato e il mio sì alla riforma non coinvolge il mio sindacato, la CGL. È un sì personale ma convinto.